Anna, lei dirige tutte queste donne? Nessuno io! Mie pie donne volontarie. Quante siete in tutto? Una sessantina. E per tutto il giorno spelate patate? No. Chiacchierate? Cominciamo alle due, chi pela aglio, chi pela cipolla, chi pela patate, si chiacchiera, si ride, si scherza e si lavora logicamente. Però anche è un bel gruppo. Sì, è un bel gruppo, ogni tanto me le bacio su un po', me le accarezzo e via, per tenermele buone, se no altranno non vengono più.